Lasciamo da parte le schede tecniche dei tre droni principali di casa DJI Mini 2, Air 2, Mavic 2 Pro Tre fasce di prezzo diverse, tre fasce di utenze differenti Ma qual è il drone che fa per noi? Bentornati in un nuovo episodio Se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Se vi piace il mondo della tecnologia, dei droni, vi aspetto nei prossimi video Ma questo sarà un confronto non troppo tecnico Faremo una bella bella chiacchierata Iniziamo subito dalla qualità video Compriamo uno di questi tre gioiellini per cosa? Per registrare un video, per portarci a casa delle riprese Che poi successivamente andremo anche a editare Se no è inutile comprare un drone solamente per divertimento È davvero fondamentale capire questo piccolo concetto Per non buttare via dei soldi solamente perché pensiamo che con un drone di questi Ci andremo a divertire Sì, ci andremo a divertire ma poi dovremo fare un lavoro a casa di montaggio video editing Se no ci compriamo un bel kit FPV da 200€ Un Tiny Whoop compreso di tutto E ci divertiamo e via Dopo questa premessa torniamo alla qualità video Sicuramente, indubbiamente, qualitativamente parlando Il Mavic 2 Pro vince a mani basse sul Mini 2 e sull'Air 2 Grazie al sensore da un pollice e alla possibilità di registrare in 10 bit Inoltre avremo anche a disposizione un diaframma meccanico Che con un sensore da un pollice ci permette di variare il nostro campo visivo E di sfocare addirittura l'immagine dietro al nostro soggetto principale Il Mavic 2 Pro è rivolto a tutti coloro che hanno già un po' di base Per quanto riguarda il mondo video e il mondo fotografico E soprattutto hanno un buon computer a casa Perché editare dei file in D-LogM richiede parecchia e parecchia potenza di calcolo del nostro computer Non è affatto da sottovalutare questo aspetto Se registrassimo in 4K, non in D-LogM Allora le cose non sono poi tanto diverse da un Mavic Air 2 Sì, avremo più dettagli Però ad esempio, come state vedendo in questa immagine Con tutti i tre droni, l'arco dell'ingresso è completamente bruciato purtroppo Se avessimo registrato in D-LogM avremmo potuto recuperarlo senza alcun problema Mentre parliamo del Pro 2 andiamo anche a dare un rapido sguardo al suo radiocomando Trasmissione video ottima, a mio avviso la migliore rispetto all'Air e al Mini Anche se hanno la stessa tecnologia Le antenne che si possono direzionare hanno ancora il loro Perché inoltre avremo a nostra disposizione due ghiere per regolare una la gimbal, l'inclinazione E l'altra il diaframma Molto comodo Oppure lo shutter in base all'opzione che abbiamo impostato Ovvero apertura, diaframma Con l'app DJI Go 4 avremo a nostra disposizione più modifiche, più parametri da andare a modificare e a settare Questo perché lui è rivolto ad un pubblico un pochino più esigente E non vuole il punta e scatta Vuole andare a impostare tutti quei parametri che solitamente un utente medio non vuole fare Ma a volte nemmeno io ho voglia di andare a pensare Ah qua abbiamo questo, qui abbiamo quello Per cui molte volte e molto spesso per comodità e per mancanza di tempo si vanno ad utilizzare i parametri automatici Dal 2 Pro passerei al Mini 2 Un drone concepito per puntare e registrare Super comodo, molto più pratico, soprattutto come dimensioni Una batteria del Mavic 2 Pro pesa quanto il Mavic Mini se non di più Il Mini 2 per quanto riguarda le normative è il drone migliore da avere O anche il Mini 1 in quanto pesa sotto i 250 grammi Soprattutto poi con l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ma parliamo di come registra il video Si vede che il sensore è più piccolo rispetto al Mavic Air 2 o al Mavic 2 Pro Poverino, è molto leggero, è molto piccolo Non possiamo pretendere una registrazione da cinema Ma a mio avviso il 4K a 30 fps ci regala delle riprese che per video su YouTube Per video sui social Ma anche per fare qualcosa di più è più che sufficiente Si vede che non ha la qualità del 2 Pro Si vede che non ha la qualità del Mavic Air 2 Però comunque se la cava davvero molto molto bene Detto questo ha la trasmissione OcuSync 2.0 Ma sul nostro smartphone l'andremo a ricevere a 720 Per cui è un pochino meno definita rispetto al Air e al 2 Pro Utilizza la DJI Fly, un'app molto molto semplificata Ed è in italiano Questo perché? Perché deve essere adatta a tutti Chiunque prende in mano il Mini 2 Non si deve trovare davanti a parole cinesi Se non ha studiato Non ha un minimo di formazione Per quanto riguarda il campo fotografico o video Dimensioni e peso Fanno sì che questo drone sia adatto A tutti coloro che hanno esigenze di portarsi dietro un drone Ma nel minor spazio possibile E peso Il radiocomando sì è grosso Ma ha tanti benefici questo radiocomando così grosso Un pacchettino così ci sta nel marsupio tranquillamente Passiamo all'Air 2 Una via di mezzo tra il Mini 2 e il Pro 2 Perché questo? Perché avrà già un sensore leggermente più grosso Da mezzo pollice Questo si vede nelle riprese video 4K 30fps Addirittura avremo il 4K a 60fps Non così utile in un drone Ma ce l'abbiamo Utilizza sempre la DJI Fly L'app semplificata che utilizza anche il Mini 2 Ma con quelle funzioni in più Funzioni che sono davvero utilissime Come ad esempio Spotlight Semplice da utilizzare Basta selezionare il soggetto E potremmo tenere traccia del soggetto Comodissimo per girare attorno ad ostacoli Avremo anche l'At-Track At-Track che funziona egregiamente Anche se ha meno sensori del Mavic 2 Pro Funziona nettamente meglio In quanto lui è uscito dopo Con una nuova tecnologia Devo dire che l'At-Track dell'Air 2 Per ora è il migliore che io abbia mai provato Bisognerebbe provare lo Skydio Però comunque devo dire Come Active Track è il top Se avete esigenze di questo tipo Ovvero farvi seguire da un drone Lui è la scelta giusta Vi fa riprese fluide Evita bene gli ostacoli Anche quelli piccoli Se ha qualche dubbio In certezza Ovvio vi perde Si ferma Però non si distrugge Contro gli oggetti Veramente ottimo Da questo punto di vista Ma poi ha anche altre funzionalità automatiche Anche come dimensioni È il drone perfetto per viaggiare Perché è leggero Radiocomando lo stesso del Mini 2 Per quello non ne ho due uguali Cambia solamente la luce Nel Mini 2 abbiamo questi led verdi Che si vedono nettamente meglio Rispetto al layer Che li ha bianchi sotto la luce del sole Non si capisce mai se è acceso o spento Però radiocomando identico Trasmissione sempre in full HD Come sul Mavic 2 Pro In ambito fotografico Tutti e tre i droni Possono scattare foto in RAW Ciò significa che possiamo Andarle poi a post produrre Ma Mavic 2 Pro Ha tanti tanti dettagli E tanta gamma dinamica Si scende un po' sul Mavic Air 2 Ma su di lui Avremo tante funzionalità Foto 48 megapixel Foto in HDR in automatico E quant'altro Anche sul Mini 2 Avremo la possibilità Di scattare le foto in RAW Niente male Ovviamente con i suoi limiti Rispetto agli altri due Come detto all'inizio Non voglio entrare nello specifico Ho fatto tutti i vari test Se volete andateli a riprendere Video, foto, qualsiasi cosa Potete trovare su questi tre droni Sul canale Anche sull'utilizzo dei filtri ND e NDPL Qual emettere, cosa scegliere Ma volevo fare un recap Mini 2 Lo scegliamo perché vogliamo entrare in questo mondo Non vogliamo spendere troppo in patentini Cose Vogliamo volare in totale sicurezza Con un bel prodotto Un bel drone Che ci permette di portare a casa Ottime riprese E soprattutto vogliamo un drone piccolo Leggero Portatile Che ci stia magari dentro una borsa O dentro un marsupio Senza troppe funzionalità automatiche Sia le quickshot Ma devo dire che con il radiocomando Abbiamo un bel feeling E dopo una decina di voli Riusciremo a fare delle ottime riprese Invece Perché dovremmo scegliere il Mavic Air 2? Perché vorremmo una qualità Un po' più alta Rispetto al Mini 2 Per quanto riguarda il lato fotografico e video Sicuramente Perché ci interessa avere un drone Con i sensori E ci permette di utilizzare la T-Track Benissimo In molte situazioni Per portarci a casa Degli inseguimenti top In più avremo anche altre funzioni Perché scegliere il Pro 2? Beh Siamo molto esigenti Vogliamo il top Delle nostre riprese Vogliamo Dedicare parecchio tempo A post produrre Il video finito Vogliamo settare i parametri ISO Shutter Diaframma Mentre registriamo Sicuramente Andremo ad applicare Dei filtri Sulle nostre riprese E Siamo dei super appassionati Oppure Dei professionisti Per quanto riguarda Il mondo Delle riprese E delle foto aeree Inutile dirvi Che lui ha Parecchie funzionalità Automatiche in più Rispetto agli altri due droni Ma le andremo a utilizzare? Dipende Dalle nostre esigenze Da valutare Anche La fascia di prezzo Si parte Dal mini 2 450 euro Sono i prezzi Della versione normale Non della versione combo Per passare Agli 850 Dell'Air 2 Per passare Ai 1450 Del 2 Pro Sono fasce di prezzo Ben diverse Anche perché Gli utilizzi Dei teledroni Sono ben diversi Spero che questo video Vi sia stato utile Spero che Abbiate scelto Oppure Abbiate Semplicemente Capito In quale fascia Di drone Vi posizionate Un po' brutto Dirlo così Però In base All'utilizzo Che ne andremo a fare Sceglieremo Mini 2 Air 2 O Pro 2 Non esiste Assolutamente Il drone migliore Esiste Il drone Adatto Alle nostre esigenze Semplice no? Noi ci vediamo Presto In un prossimo video Mi raccomando Seguitemi anche su Instagram Per tutte le novità Essere aggiornati Interagire con me Con i vari sondaggi E quant'altro Su Telegram Per le migliori offerte di tecnologia Potete trovare magari Qualche super offerta In qualche giorno particolare Io le seleziono personalmente Senza ausilio di boot Supporterete il canale E risparmierete voi E ci vediamo Presto Ciao Nel dubbio Li prendete tutti e tre E in base a ciò che andate a fare E via Montagna Bici Quando devo fare le riprese Più top di sempre